Ciao a tutti e benvenuti al corso di italiano. Io mi chiamo Anca. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Partiremo dall'alfabeto. A, ad esempio, arcobaleno. È molto facile. L'alfabeto, anche le regole di pronuncia sono molto facili. A, B, ad esempio, bosco. C, ad esempio, castello. Arcobaleno, bosco, castello. D, I, denti. E, elefante. F, fuoco. Denti, elefante, fuoco. G, ad esempio, gelato. H, ad esempio, hotel. La H in italiano non si pronuncia. Vedremo in seguito. H, hotel, ho detto, è I, isola. gelato, hotel, isola. M, maschera. N, noce. O, orologio. Maschera, noce, orologio. P, porta, uva. Ad esempio. Q, quattro. R, rana. Porta, quattro, rana. S, serpente. T, talpa. U, uva. Qui abbiamo V o V. Vanno bene tutte e due. Vaso. E, zeta. Zeta. Attenzione alla pronuncia. Zeta. Zaino. A queste lettere si aggiunge un'altra serie di lettere che si incontrano soprattutto nelle parole di origine straniera. I, lunga. Va bene anche J si può dire. Jeans. X, xilofono. E, k, karate. Y, uv. W, wirstel. Una parola evidentemente di origine tedesca. Ora, proviamo a ripassare l'alfabeto. A, B, C. Arcobaleno, bosco, castello. D E F lenti, elefante, fuoco G H I gelato, hotel, isola M N O maschera, noce, orologio P Q R porta, quattro, rana S T U serpente, talpa e uva V O V Z vaso, zaino poi ilunga X K jeans, xilofono, karate y e w yogurt, wurstel qui abbiamo tre nomi il primo è il mio nome Anka A N C A il secondo nome Marco M A R C O il terzo nome Sara S A R A Sara è importante conoscere la pronuncia delle lettere vi faccio un esempio qui abbiamo cd cd dvd e qui dhl l'agenzia dhl perciò non dovete dire cd solo cd ripeto cd dvd dhl ora passiamo alle regole di pronuncia attenzione a come pronuncio io questi gruppi di lettere amiche chimica cena cibo bacio marciume e ciao ciao seconda riga ghepardo ghiro gelato gita giorno giusto giacca e terza riga scheletro e fischiare allora attenzione qui a questi gruppi di lettere sche schi si leggono sche e schi scheletro fischiare ripeto amiche chimica cena cibo bacio marciume ciao ghepardo ghiro gelato gita giorno giusto giacca e scheletro e fischiare così come ho detto prima sono molto molto facili le regole di pronuncia adesso s tra due vocali attenzione a come si pronuncia casa presa casa presa quindi non si pronuncia ps come se fosse una s casa presa però se abbiamo doppia s allora si pronuncia rosso rosso e qui provate da soli sasso ripeto casa presa rosso sasso sasso la zeta attenzione a come pronuncio io calza c calza e qui provate danza danza qui doppia zeta non cambia molto pizza si sente un po' di più pizza conoscete già la pizza immagino e qui provate tazza calza danza pizza e tazza però attenzione la zeta all'inizio della parola si pronuncia z z zaino e qui zero calza danza pizza tazza zaino e zero poi abbiamo il gruppo GLI in questo caso la G non si sente aglio si legge si pronuncia lì aglio e qui maglia aglio e maglia abbiamo poi il gruppo GN si pronuncia gni gnomo gnomo e magnete magnete quindi la G non si sente né qui né qui abbiamo il gruppo SCE che si pronuncia sce sce scena e provate scendere è un verbo scendere il gruppo SCE si pronuncia sci sciarpa sciarpa e qui cuscino cuscino dunque scena scendere sciarpa e cuscino e l'ultima regola Q si legge sempre Q acqua acqua e attenzione ve l'ho già detto prima la H non si pronuncia mai in italiano mai ad esempio il mio indirizzo mail il mio nome più il mio cognome chiocciola chiocciola hotmail.com non si deve pronunciare la H o avevo già fatto prima l'esempio hotel adesso provate a pronunciare queste queste parole sciuppare sciuppare scienza scienza vi ricordate SCI sciuppare scienza qui gatto gatto cielo celeste qui è facilissimo parco gli se vi ricordate c'era l'esempio di prima aglio medaglia la G non si sente qui razza pensate a pizza razza qui gn se vi ricordate che si pronuncia nì allora abbiamo cognome cognome sc e come ho detto che si pronuncia sce scemo però attenzione sc h e c'era l'esempio di prima scheletro allora schema e qui scappare scappare pizzico qui molto facile rospo qui se vi ricordate casa l'esempio di prima rosa la stessa cosa in questo caso posare posare vedete s tra due vocali rosa posare forza forza scatola migliore migliore vedete qui medaglia migliore stesso gruppo di lettere anche qui figlio borsa comporre comporre mele miele pelle qui contenuto amore scottatura pasta geografia storia qui chiazza chiazza azione eccezione signore di nuovo abbiamo gn signore e attenzione qui se una parola finisce per una vocale accentata come si pronuncia università università qui abbiamo la e accentata cioè facoltà e lunedì ripeto sciuppare scienza gatto cielo celeste parco medaglia razza cognome scemo schema scappare pizzico rospo rosa posare forza scatola migliore figlio borsa comporre mele miele pelle contenuto amore scottatura pasta geografia storia chiazza azione eccezione signore università cioè facoltà lunedì ora abbiamo i saluti buongiorno buongiorno che si può dire dalle sei a mezzogiorno oppure dalle sei alle dodici buonasera dalle dalle cinque alle ventidue non è una regola fissa se dite buongiorno dopo mezzogiorno non è una tragedia buon pomeriggio dalle dodici alle diciassette e buonanotte dopo le ventidue ripeto buongiorno buonasera buon pomeriggio e buonanotte poi abbiamo ciao ciao si può dire anche salve arrivederci alla fine della discussione arrivederci potete anche dire buona giornata o buona serata buona giornata e buona serata sempre alla fine della discussione alla fine dell'incontro arrivederci buona giornata e buona serata e adesso abbiamo due verbi che sono molto molto importanti essere e avere e dovete imparare a memoria evidentemente essere io io sono tu sei lui se è un maschio lui è oppure se è una femmina lei è noi siamo noi siamo voi siete e loro sono io sono tu sei lui o lei è noi siamo voi siete e loro sono è il verbo avere io ho vedete che la H non si pronuncia tu hai lui o lei ha noi abbiamo voi avete e loro hanno ripeto io sono tu sei lui lui o lei è noi siamo voi siete loro sono è il verbo avere io ho tu hai lui o lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno ad esempio lui è un uomo quello che ho detto prima e lei è una donna lui è un uomo lei è una donna io sono una donna mi chiamo Anca l'ho già detto prima e ho due gatti proviamo a fare una breve frase lui è gatto uno lei è gatto due dunque lui è un maschio lei è una femmina ora passiamo all'articolo determinativo abbiamo due tipi di articolo in italiano l'articolo femminile e l'articolo maschile non è difficile iniziamo con l'articolo femminile abbiamo un esempio qui la sedia le sedie se una parola finisce per la A allora è molto probabile che sia di genere femminile ci sono anche delle eccezioni ma non parliamo adesso delle eccezioni evidentemente allora il plurale al plurale questa parola finisce per la E la sedia le sedie la ciambella le ciambelle un altro esempio e qui attenzione la parola finisce per la A quindi è di genere femminile ma inizia per una vocale allora si mette L apostrofo l'edicola le edicole la sedia le sedie la ciambella le ciambelle l'edicola le edicole provate da soli finestra la finestra e al plurale le finestre nuvola la nuvola al plurale le nuvole e matita la matita al plurale le matite ora passiamo all'articolo maschile che è di due tipi ma non vi spaventate non è così difficile se una parola finisce per la O allora è molto probabile che sia di genere maschile questo è il primo tipo di articolo maschile attenzione però c'è un altro tipo di articolo che lo incontrerete che lo incontrerete in diciamo otto casi partiamo dal primo caso lo zaino gli zaini perché abbiamo messo lo qui e non il perché zaino inizia per zeta quindi davanti alle parole che iniziano per zeta si mette l'articolo l'articolo lo al plurale li e non i lo zaino gli zaini secondo caso davanti alle parole che iniziano per ps non ce ne sono tante lo psicologo gli psicologi lo psicologo gli psicologi qui davanti alle parole che iniziano per gn anche qui ce ne sono veramente poche lo gnomo lo gnomo plurale gli gnomi lo zaino gli zaini ripeto lo psicologo gli psicologi lo gnomo gli gnomi quarto caso davanti alle parole che iniziano per pn ma anche queste sono diciamo si incontrano raramente lo pneumatico gli pneumatici lo pneumatico gli pneumatici davanti alle parole che iniziano per y si usa l'articolo lo lo yogurt gli yogurt davanti alle parole che iniziano per x lo xilofono gli xilofoni e poi attenzione qui in questo caso incontrerete più parole che si usano con l'articolo lo davanti alle parole che iniziano per s più consonante ad esempio lo squalo al plurale gli squali lo squalo gli squali e qui vedete è una parola di genere maschile perché finisce per la o ma inizia per una vocale quindi si mette apostrofo l apostrofo non si può dire lo orologio ma l'orologio al plurale gli orologi riprendo scusate il tavolo i tavoli il quaderno i quaderni la maggior parte delle parole di genere maschile si usano con l'articolo il poi i casi in cui si usa l'articolo lo davanti alle parole che iniziano per z ad esempio lo zaino parole che iniziano per ps lo psicologo parole che iniziano per gn lo gnomo parole che iniziano per pn lo pneumatico parole che iniziano per y lo yogurt parole che iniziano per x lo xilofono e gli ultimi due casi parole che iniziano per s più consonante lo squalo e qui abbiamo l apostrofo l'orologio ma al plurale abbiamo sempre lì gli orologi adesso provate da soli ad indovinare l'articolo di queste parole ragazzo vedete è di genere maschile perché finisce per la o l'articolo è il ragazzo i ragazzi qui è sempre di genere maschile perché finisce per la o sdentato abbiamo lo sdentato lo sdentato scusate gli sdentati perché abbiamo s più consonante se vi ricordate l'esempio di prima lo squalo e armadio l'armadio perché inizia per una vocale quindi si mette l apostrofo l'armadio gli armadi dunque il ragazzo i ragazzi lo sdentato gli sdentati l'armadio gli armadi provate da soli a mettere l'articolo davanti a queste parole stipendio è di genere maschile perché finisce per la o ma inizia per s più consonante più t allora lo stipendio gli stipendi come in questo caso zio vi ricordate l'esempio di prima lo zaino allora lo zio gli zii giorno è di genere maschile il giorno i giorni perché non inizia per z per s più consonante per ps quindi il giorno i giorni mamma attenzione finisce per la dunque è di genere femminile la mamma le mamme accendino come in questo caso è di genere maschile ma inizia per una vocale quindi l'accendino gli accendini argentino come prima l'argentino gli argentini pomeriggio attenzione qui non abbiamo ps quindi il pomeriggio i pomeriggi svizzero s più consonante s più v perciò lo svizzero gli svizzeri come stipendio e sdentato sera la sera le sere perché finisce per la villaggio il villaggio i villaggi evidentemente pera la pera le pere perché è una parola di genere femminile la stessa cosa qui speranza finisce per la si abbiamo s più consonante qui ma è una parola di genere femminile allora la speranza le speranze stato invece qui vediamo che finisce per la o dunque lo stato gli stati scuola stessa cosa la scuola le scuole perché è una parola di genere femminile e ho preso altri due esempi che finiscono per una consonante sono casi rari e si tratta il più delle volte di parole di origine straniera il bar il bar è di genere maschile attenzione non si mette più la i al plurale il bar i bar la stessa cosa qui l'autobus come armadio l'autobus gli autobus gli autobus l'articolo rimane uguale solo che non si mette più la i al plurale e ho fatto uno schema che spero vi aiuterà le parole che finiscono per la a sono di genere femminile femminile singolare qui abbiamo femminile plurale la mamma le mamme qui maschile singolare ad esempio giorno il giorno maschile plurale i giorni però ogni tanto incontrerete anche parole che finiscono per la e che possono essere sia di genere femminile che di genere maschile dovete imparare a memoria il genere di queste parole comunque sia al plurale finiscono per la i scusate ad esempio il bicchiere i bicchieri il bicchiere i bicchieri notte però è di genere femminile vi ricordate buonanotte allora abbiamo la notte le notti provate con fiore caricatore e cane tante parole che finiscono per la e sono di genere maschile e non femminile fiore il fiore i fiori il caricatore i caricatori e il cane i cani e ora prima di finire questa lezione abbiamo una frase molto breve il mio gatto lui è il mio gatto è molto bravo e tu hai cani o gatti detto questo abbiamo finito la prima lezione di italiano ciao ciao